Il suo figlio 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 Vale la pena vivere solo se è qualcosa per cui morire E le ragioni le avrei e come per agire e invece io vorrei vivere a Gerusalemme perché l'amo. So che è colpa del testo, della lettera umida. Per fare la magia si mettono l'acqua in bocca e si trasche sulla lettera. Guarda che è solo la riproduzione di un'opera d'arte. Cosa? 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 Cosa?